buongiorno oggi 8 dicembre celebriamo la solennità dell'immacolata concezione della vergine maria concepita nel grembo di anna sua madre senza peccato originale questo è il mistero che celebriamo oggi in una festa che radicata nella tradizione semplice del popolo cristiano e che ha allo stesso tempo una enorme intensità teologica una profondità spirituale che ci sospinge dentro un mistero grande la liturgia propone la lettura del vangelo di luca al capitolo 1 dal versetto 26 al 38 è il racconto dell'annunciazione quando l'angelo annuncia maria che sarebbe diventata madre di gesù e vi è un'espressione che lascia intuire qui un qualcosa di speciale nella giovane fanciulla di nazareth e la è infatti la piena di grazia così la chiama l'angelo quasi dandole un nome proprio piena di grazia dunque in questa grazia sovrabbondante vi è il disegno d'amore di dio padre che proietta attraverso maria uno sguardo alla storia dell'uomo dell'umanità intera che si radica in un passato prospetta un futuro ed è speranza per il presente il passato è la grazia preveniente prima ancora che maria appunto fosse concepita dio aveva pensato a lei e ha voluto prepararla come degna dimora del proprio figlio e dunque maria ci riporta al progetto originario di dio che ha fatto l'uomo bene come creatura buona prima che il peccato segnasse in maniera radicale il cammino della storia nel cuore di dio vi è sempre e solo un progetto di bene di bontà in maria lo vediamo realizzato e in questo modo possiamo guardare al cuore all'intenzione di dio da quando egli ha voluto creare il mondo e sempre dentro di noi questo sguardo a un passato senza tempo proietta verso il futuro il nostro sguardo perché ci dice quello a cui siamo destinati come maria che ora è nel cielo immacolata madre che continua a prendersi cura di noi così anche per noi la prospettiva è quella di una santità senza fine anche noi siamo chiamati a stare davanti a dio immacolati purificati e redenti dalla grazia del perdono che viene da cristo la nostra vita non è quindi orientata alla perdizione ma alla salvezza e alla luce immensa che maria già gode al cielo vicino al padre al figlio e allo spirito santo questo abbraccio della storia ci fa comprendere che proprio lei è nostra compagna di strada qui adesso è il presente della nostra vita ciò che interessa a dio e alla madre del figlio gesù la madonna immacolata continua a essere presente e ci fa da compagna da testimone ma anche da amica nella farci accedere ai misteri del figlio gesù non si può pensare di conoscere gesù senza passare per il della madre che nella orientarci verso la speranza e la fiducia ci stimola ad avere il coraggio di scelte forti qui adesso perché per custodire la grazia che ci è donata nei sacramenti nella parola nella carità c'è bisogno costantemente di aprire la nostra fragilità l'azione misericordiosa di dio e lui la forza della vergine è lui che vuole diventare la nostra forza ed è maria con il suo esempio e la sua custodia che ci permette di accedere a questa relazione privilegiata con il signore buona festa a voi e a tutto il popolo cristiano